Garantire la fruizione e insicurezza dei sentieri escursionistici incentivando il turismo naturalistico. Ecco perché è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori relativi agli interventi di manutenzione e ripristino dei sentieri escursionistici delle Roc del Crasto di Alcaralifusi, redatto dall'ingegnere Basilio Sanseverino per 40.000 euro. Il Comune Montano ricade in un ambito territoriale in cui, malgrado la riconoscibilità della grandiosità delle bellezze naturali, storiche e architettoniche, l'economia locale risulta debole. In un panorama di promozione e riscoperta dei territori più interni e svantaggiati, si afferma la necessità di percorrere un nuovo modello locale di sviluppo che possa migliorare l'attrattività dei luoghi e la promozione delle attività imprenditoriali. Da qui, in relazione alle specificità naturali e storico-culturali dei luoghi, alle loro tradizioni e al loro stato attuale, si intende innescare un sistema di promozione per favorire il recupero, mantenimento e conservazione dei luoghi di pregio naturalistico presenti sul territorio, il miglioramento della fruizione dei siti naturali e il radicarsi di nuovi approcci all'ambiente fondati sull'educazione ambientale. Le aree interessate dai lavori in progetto sono in parte di proprietà del comune di Alcala-Lifusi ed in parte di proprietà del comune di San Marco d'Alunzio, con il quale si è stipulato un protocollo d'intesa per la realizzazione del progetto, per il quale non si prevedono né espropri né servitù. Nel contempo, l'esecutivo di Ettore Dottore voleva chiedere un contributo regionale per il progetto Alcala-Lifusi Religione Cultura Tradizione 2024, la spesa complessiva è di 12.500 euro con 5.000 euro di contributo regionale e 7.500 euro di finanziamento comunale. Si vuole puntare sulle manifestazioni religiose che si svolgeranno ad Alcala-Lifusi nel mese di agosto 2024, poiché hanno grande valore culturale e contribuiscono ad accrescere il richiamo turistico del territorio. Il fulcro è la festa del patrono San Nicolopoliti, con i riti del 15, 17 e 18 agosto, tra perlegrinaggi, degustazioni, mostre e concerti.